Si chiama January Neterlin, è una donna di 32 anni d'età e avrebbe maltrattato e avrebbe messo in pericolo ogni giorno i bambini che li sarebbero stati affidati. Infatti li avrebbe abbandonati a loro stessi per tre ore per andare ad abbronzarsi ed anche per andare a fare dello sport. Un comportamento che non sarebbe ovviamente molto buono anche perché sarebbe da incoscienti per diciamo così sottrare del tempo prezioso ai bimbi e andare addirittura a fare i propri porci tra virgolette comodi. E' stata dunque una situazione questa che ti sto per rapportare che davvero non è delle più belle anche perché la donna è sicuramente bella, è sicuramente in gamba però avrebbe bisogno di prendersi conto che non si può fare così. E così la serie unita Little Grigios di Bain nell'Oregon sarebbe stato giudicato come illegale in quanto sarebbe stato trovato privo di autorizzazione e la donna lo avrebbe giustito da quattro anni senza avere addirittura il diploma che l'avrebbe dovuto abilitare. Quindi una donna non avrebbe avuto il diploma. Detto ciò questo sarebbe quanto grazie per l'ascolto, un primis e per la visione in secondis. Un saluto e al prossimo video.